Allora senta, ci sa dire come si dice che ore sono in inglese? Non mi sono nemmeno preparato. Come è vero? Avanti su che ore sono, lo sa. No. Quali erano i re magi? Quanti erano? Però più precisamente non ricordo esattamente. Non mi sono nemmeno preparato. Come è vero? Non so, ci parli di Omero? No, no, è più discorsivo. Perché il dottore non me lo ricorda esattamente. No. No. Se ho detto di Omero non ho detto una bestemma. Non mi sono nemmeno preparato. Come è vero? Non me lo ricordo adesso, francamente non mi ricordo. Il termine compiacente lì ha... Asino. Compiacente nei confronti di una situazione. L'asino. Si sono comportati in una maniera frettolosa, superficiale. Questi esami di quinte elementari, se non lo faccio, pace. Ricordo di averne vista una anteriore a corpo nudo. Dice di punzonatura... Cosa raffigurava sul momento esattamente? L'acqua, non me lo ricordo più. Di che cosa dobbiamo operare? Ah, io non lo so. Che da? Posso ripercorrere la mia relazione? Sì, sì. Non c'è scritto. Ma per una gravidanza ci vogliono solo nove mesi. Ah, sì. No, no, mi scusi, ho commesso un errore. Ma scusi, ma lei non lo sa? E non me lo ricordo adesso, francamente non mi ricordo. E chi la vede? Cosa? Questa reppia di... E questo non l'ho precisato. In medicina non c'è il bianco e il nero. C'è il bianco e il nero da andare a verificare. Ma allora potrebbe trattarsi di calcolo renale? Fistola anale? Ma guardi, le informazioni che io ho si... Blocco intestinale? Maglia postale? Ricordo di... Oddio. Quando lo sciame da api che... Aspetti. Esattamente... No, è un piatto regionale avruzzato. Che ora però non ricordo nella loro compiutezza. Cioè, quando si dice, gli ha dato una gran funzionatura. Più precisamente farei, commetterei forse degli odori, non saprei. Aspetti, professore. Ah, sì, eccola. La scheda. La scheda. Io vedo qui di aver scritto a suo tempo. Ho avuto un attimo, scusate, il caldo, la lampada. La scheda, professore. Mi sembra polemico. Se io dico no, basta, vuol dire che sto parlando con me stesso, non sto parlando con lei. Eh, nella vita lo studio nemmia tutto. C'è anche la sopa, no? Lo devo insegnare io. Ma dico, se i milanesi a Milano quando c'è la nebbia non vedono, come si fa a vedere che c'è la nebbia a Milano? Grazie. Grazie.